Ma il più bello è assolutamente l'Ust un ledic o no? Ce l'hai l'Ust un ledic? No, l'ho messo appena sposato l'anno scorso. Allora, non puoi mettere l'Ust un ledic, perché c'è qua. Ma c'è anche il Ferrara che ha detto un ledic, sposato e rovinato. E' un po' bravo, sposato e rovinato. E' anche il culo attiva le rughe, noi non andiamo sempre gli stessi. Madonna c'è quell'aria qua. E poi arriva di più ancora. E' un po' qua e vediamo quanti che ne vengono sti qua. Ma basta adesso, non ti vengono più. No, dimmi quanti vengono. Sì, faccio tra via, tra via, solo cinquante settimane. Faccio fatti suoni, articolo. Quelli centri come quattro sette e quelli quattro. Faccio sette cinquanta e poi prendi quelli che vuoi. Più prendi, più... Un, due, tre. Quattro, cinque, sei. Sette, dovresti prendere uno, un altro. O metto uno via. Sette per otto... Sette per otto meno...